ciao a tutti lui mi vuole nella sua vita chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda seguo il video nel frattempo iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo terramaschi iscritti al nuovo canale felicità benessere di cui ti posto il link descrizione mescoliamo le carte tagliamo giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali una carta 1 la carta 2 legato 3 e la carta 4 ora concentrati su questa lei della quale su questo lui della quale vuoi sapere se ti vuole nella tua vita concentrati su questo lui dopodiché scegli o la carta 1 o la carta 2 o la carta 3 o la carta 4 perché scelto la carta 1 io non credo che diciamo ti voglia nella sua vita perché ha un'altra donna nella testa un legame molto materiale molto fisico con un'altra donna che scelto la carta 2 sicuramente sì anzi la possibilità forte che esiste con qualche piccolissima variante avere un'unione molto solida tipo convivenza matrimonio che ha scelto la carta 3 hai a che fare con una persona estremamente volubile con mille pensieri e molto superficiale crescita la carta 4 in questo momento non ti vuole nella sua vita perché è un percorso di ricerca interiore e di solitudine per cui non è il momento giusto per questo video è tutto seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale felicità benessere di qui ti posto il link in descrizione ciao a tutti